Il Lions e il Leoclub Adrano Bronte e Biancavilla, presieduti da Gesù Egreco e Damiano Sapia, hanno presentato all'Istituto Comprensivo Antonio Bruno di Biancavilla il service nazionale dalla cultura dei diritti a quella dei doveri. In una affollata aula magna di studenti accompagnati dai loro professori si è svolta l'iniziativa leonistica sotto forma di lezione aperta di educazione civica. Dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Patrizia Gumine e della presentazione delle finalità e scopi del Leoclub da parte di Diego Rago, il tema è stato introdotto dal referente delle attività di servizio Salvuccio Furnar, il quale si è soffermato sulla valenza educativa e comportamentale che dovranno avere i giovani cittadini. L'argomento è stato affrontato in modo esaustivo con il coinvolgimento attivo degli studenti, dai giuristi Giuseppe Scardini e Damiano Sapia che si sono soffermati sul valore della Costituzione e dei principi in essa contenuti e sugli articoli che sanciscono i diritti e i doveri di un buon cittadino. All'incontro inoltre presenti i soci Lions, Graziella Portale e Giovanni Scuderi.